Amore, ma fa proprio freddo oggi. Ma io ho preso, guarda che bel brotto, guarda che se la giornata faccio il brotto, vado a macellare, che bel brotto mi ha nato. Mi ha nato la canna, le osse, i nervi, altri devo fare il brotto per notte. Vabbè, ah sì, perché mi ha riuscito a andare a bollare. Facciamo un po' di brotto, va bene? Fa proprio freddo, freddo, freddo. Ehi, guarda che mamma mi scazzino, guarda che macellare, vado a 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 macellare. Vedi, tanti anni fa sono io facendo quell'osso. Ah sì? Sì. Per il più sapore. Per il più sapore, esce più il zucchero, vado a capire. Bella. Ah, per il bambino che hanno, vado a macellare. Vedi? Sarà più morbido, eh? Ora c'è la comandata bella. Io ti faccio. La metti già nella padella? Sì, ti faccio il brotto. Dobbiamo metterci ancora l'acqua, perché io provo. La pappo faccio breve, la metterà la roda, tutto quello da qui. E se ti va a bovendo, se ti va a bovendo, non metto nisto a bovendo. Che è a bovendo? E se ti va a prender un sapore al brotto. Sì, sei da noc. La pezzettina. Ah, pezzettina, tu metti a se. La garota. Ah, metti in dentro. La chupota. La chupota. Oggi non vuole un altro cosa, noc. Ammèi, il brotto, ma vuoi ai su di che me zanero, niente. Niente, non è fatto come i zanero. E a me piace come i zanero. Pane pelline, panicuraline, 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 spazzate. A me piace, e poi mara, ove, a me metto. Eh. A me piace, come i zanero. Il ralco se fa, anzionez, alladeate. A me piace molto il brotto. Sì, sei se stai spazzando. Sì. C'è ma solo, e poi c'è il brottino. Il brottino. Il brottino. Il brottino. Il brottino. Eh, sta da cocio, no? Solo a 2 ore. È lo stai. Ok. Ma ascoltiamo che si fa, e facciamo bene piattere il brotto. Va bene? Sì. Angelo, il brotto lo abbiamo fatto? Io lo passo, e poi dopo butto la pasta. È bello. Vedi? Ecco il brotto mi ha fatto mia nonna. Ma aspettiamo che scende tutto il tutto. E buttiamo la pasta. E ti faccio mangiare. Angela, il brotto l'abbiamo passata. Solo la nonna oggi fa troppo cosa solo per te. Grazie. Eh no, perché? Era peccato. Eh sì. Ma che tu l'abbiamo mostrato, per me, piano piano me lo mangio. Eh, buttate, come si chiama? Il minzanello. Il minzanello, come avevi detto tu. Il minzanello. E allora ora me la fai assaggiare come piace a te. Ok. E butti altri due? Sì. Ma non ho visto troppo buono. Eh, infatti. Sì, perché hai fame. E ora sono tornata da scuola. Dai, qua ve li fa preso il minzanello spezzato. Beh, le provate. Mi il brotto è assai. E qua fa bene, è pronto. Sì. È pronto, amore, è pronto. Prontissimo. Ecco qua. Ah, no, io tengo la fai. Eh, voglio mangiare, faccio mangiare. Voglio mangiare. Sì, mangio, mangio, faccio rossi. Ecco qua. Un gloria che è minzanello. Un l'osso e caramme. Bello. Buon maggio. Espe, questi ingredienti lo prendo io, perché già so che lo metterai. Sì. Un po' di pepe. Bello. C'è già il colore del brodo, no? La vada là. Sì. 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 Il formaggio e pepe. Favorito, capo consulato. Non la assaggiamo, perché... Eh, poi faccio mangiare no. Eh, buon. Mi faccio fare a Nadia nei brodo. Non mangiare lui, eh. Grazie. Grazie.